Eccoci qua con la dirigenza dell'Orma, neopromossa in eccellenza Mister, qua tutti vogliono sapere qual è l'obiettivo per la prossima stagione L'obiettivo è uno solo Cioè? Primi Primi? Primi, primi a testa alta Quindi regionali Regionali, se ci crediamo arriviamo Arriviamo? Sicuramente Attenzione, parte la scommessa alla Paoloni Vediamo il team manager Hanno scommesso, attenzione Uno che tagli, uno che tagli, tagliare la scommessa Tagliare la coltella Ma tu quindi credi in questa squadra mister? Sì, io ho sempre creduto Sempre creduto? Certo Un commento sulla stagione appena conclusa? È commestibile Siamo stati dei grandi Sì Ma è commestibile? Ma Ah vinci Grandi Si è vista l'impronta del tuo gioco Un po' anche farina del sacco di signor Manara Ma l'ha anche più giocato di calcio Sesso, micchia pupa Team manager, non dici niente Tranne in certe occasioni Io dico che Sono i numeri che parla Esatto Esatto I numeri dicono Team manager 100% di vittorio Non tutti sanno che Io a Tenefolo Ti hanno portato la squadra Sì No, lo sanno Non lo sanno Menti i micchi Ti ha messo la mente No Di Oli Giorgio Con il micchia Mi ha messo il micchia e abbiamo vinto Quella partita è stata la svolta È stata la svolta quella partita lì Team manager Con quanti punti di vantaggio abbiamo vinto Quattro punti Quattro punti Quattro punti Quattro punti Beh, allora vuol dire che l'anno prossimo devi imporre i tuoi schemi di gioco Metti gli attaccanti e via No No Io ho La stessa squadra o uno ha vinto E uno ha perso Bravo Eh, tu hai perso però Questo è anche Questo è carriera Perché Opepe? Perché Dodo non curava Comunque Non curava un cazzo Non curava Sì, aspetta Quello che curava E la tua faccia ha fatto due gol Tre, tre gol Eh, tre gol E' colpa di Bello E' colpa di Bello E' colpa di Bello Comunque Stiamo ancora trattando Cosa? Il rinnovo Il rinnovo Com'è la questione di ingaggio con la società qua? Che porca Contrattazione? Chiesa mettono all'Inter perché viene il nuovo All'Orma Diciamo che stiamo trattando su un aumento di stipendio Se è accettabile o no 30% di quello che prendeva quest'anno Cioè? Niente Fate un saluto ai tifosi dell'Orma Mandate a fanculo tutti